Le confederazioni artigiane e i sindacati aprono il tavolo di confronto sulla riforma contrattuale. Arriva un nuovo prodotto di artigian cassa per finanziare la sicurezza sul lavoro. Più credito alle PMI europee, si allarga il fronte che chiede la conferma del fattore di supporto per le piccole imprese. ANAP e ANCOS Confartigianato Persone lanciano un questionario online sulla sicurezza. In aumento le truffe online, le iniziative delle associazioni di Vicenza e Bolzano. Buongiorno, bentornati all'appuntamento settimanale con il Tg di Confartigianato. Il 9 marzo si è aperto il confronto tra Confartigianato, le altre sigle artigiane e CGL Cisle Will sulla riforma del modello contrattuale. Vediamo com'è andata nel servizio di Lorenza Manessi. Cambia l'economia e cambiano le imprese e anche per i contratti di lavoro si apre una stagione di rinnovamento. A Roma, il 9 marzo, nella sede di Confartigianato, i vertici delle confederazioni artigiane e i leader di CGL Cisle Will hanno dato il via al confronto sulla riforma del modello contrattuale, che parte da un documento di proposta e presentato dai sindacati. Il presidente Giorgio Merletti ha parlato a nome delle altre sigle di impresa e ha messo subito in chiaro che l'originalità della contrattazione nell'artigianato non si tocca. Vanta una lunga storia e nel 2004 ha già saputo rinnovarsi dando vita a due livelli contrattuali, nazionale e territoriale, di pari cogenza. Non si parte da zero, quindi, ha tenuto a precisare Merletti, e se ora bisogna evolvere occorre farlo a precise condizioni e con l'obiettivo di sostenere le potenzialità di un sistema di imprese maggioritario nel paese ed espressione dell'autentico made in Italy. Quindi va rispettata la specificità del modello artigiano e difesa l'autonomia del tavolo. Deve essere anche valorizzato il secondo livello di contrattazione per dare risposte su misura alle diverse esigenze dei territori italiani. E ancora bisogna spingere sulla buona pratica della bilateralità. Il presidente di Confartigianato si è poi detto disponibile ad una drastica riduzione del numero dei contratti nell'artigianato, che interessano oltre 1.300.000 lavoratori, ma che, ha aggiunto, dovranno poter essere applicati anche alle piccole imprese. Noi non chiediamo compromessi, chiediamo sintesi. La crisi ci ha cambiato, ci ha cambiato notevolmente, ci ha cambiato nel modo di fare, di approcciare, anche nelle relazioni industriali. Certamente non ci ha cambiato nell'animo. È questo che ho percepito oggi. Abbiamo voglia di fare. Dai sindacati è arrivato un primo sì alle indicazioni avanzate dal presidente Merletti. In particolare, Susanna Camusso, segretario generale della CGL, si è detta d'accordo sulla necessità di non buttare a mare il modello di contrattazione costruito in questi anni. Non abbiamo mai pensato di cancellare ciò che abbiamo alle spalle. Anzi, rivendichiamo orgogliosamente che le tante cose fatte, anche durante la crisi, sono state una delle cose che hanno tenuto insieme. Non abbiamo nessuna tentazione, non siamo presi. Anzi, pensiamo che chi continua a dire che bisogna stravolgere tutto non abbia proprio idea di cosa vuol dire difendere, regolare, determinare la contrattazione. Certo, come abbiamo avuto capacità negli anni precedenti, c'è sempre bisogno di provare a vedere come migliori. Il modello contrattuale in realtà è sempre la sintesi tra delle necessità del sistema delle imprese e di una nostra rivendicazione di rendere sempre meglio le condizioni dei lavoratori. Quindi quella sintesi deve continuamente evolvere in ragione dell'evoluzione, anche dei modi di produrre, della rilevanza, del rapporto con l'export, dei cambiamenti e delle innovazioni che ci sono, guidandole positivamente. Da parte sua, Gigi Petteni, segretario confederale della Cisla, ha riconosciuto l'importanza del settore artigiano e dello strumento della bilateralità. La bilateralità deve essere uno strumento in grado di dare delle risposte ai lavoratori e agli imprenditori. È la cosa più bella per questo mondo, fare cose congiunte per l'imprenditore e per il lavoratore, che poi è anche la loro vita quotidiana di ogni giorno. Ma probabilmente la possiamo anche innovare. Su quelle sfide io penso molto alla formazione oggi. Le nostre imprese dovranno digitalizzarsi, fare salti di qualità e dobbiamo investire molto sulla formazione congiunta tra lavoratori e imprenditori. E la bilateralità può svolgere un ruolo anche in questa dimensione qui. È anche il luogo dove si rafforza la responsabilità e anche la condivisione. E noi abbiamo bisogno di molta responsabilità, di molta condivisione, perché si esce da questa situazione di difficoltà insieme, non ognuno per proprio conto. Il prossimo appuntamento del tavolo è stato fissato per il 24 marzo, quando si inizierà a definire i singoli temi oggetto del confronto. Artigian Cassa propone una nuova linea di finanziamento dedicata ai progetti delle imprese per garantire salute e sicurezza sul lavoro. Si chiama Prestito Artigian Cassa INAIL e copre fino al 100% le spese sostenute dall'imprenditore, integrando così i contributi previsti dal bando dell'INAIL partito lo scorso 1 marzo e dedicato a finanziare fino al 65% i progetti sulla sicurezza del lavoro in azienda. Rapido nei tempi e flessibile nelle modalità di erogazione delle risorse, il nuovo prodotto di Artigian Cassa rappresenta un anticipo non solo del contributo INAIL, che si ferma al 65% delle spese e verrà erogato a investimento ultimato, ma anche di tutto il fabbisogno finanziario per la realizzazione del progetto. Così l'imprenditore potrà sostenere in piena tranquillità le spese previste senza dover utilizzare la propria liquidità. Il Parlamento europeo fa quadrato intorno al fattore di supporto, uno strumento che agevola il credito alle piccole imprese. Anche l'Italia non sta a guardare. Ci spiega tutto Ivan de Menego. Quando un piccolo imprenditore chiede un prestito alla banca, non sa che parte delle possibilità che ha di ottenerlo deriva da un meccanismo poco noto e dal nome vagamente esoterico. Il fattore di supporto per le piccole e medie imprese. Questo meccanismo, introdotto nel 2014 dalla Commissione europea, per assicurare un adeguato flusso di credito alle piccole imprese, consente alle banche di prestare denaro alle PMI con un minor assorbimento di capitale. Dette in soldoni, gli istituti di credito, quando concedono un prestito a una piccola o media impresa, purché di importo complessivo inferiore a un milione e mezzo di euro, devono accantonare meno patrimonio rispetto a quanto previsto dai rigidi parametri di Basilea 3, soldi che possono essere messi in circolazione. La misura scade all'inizio del prossimo anno, e nonostante questo strumento stia aiutando le piccole imprese a guidare la crescita economica del continente, in un contesto di ripresa ancora fragile, non tutti in Europa sono favorevoli a mantenerli in vita. In particolare, non lo è l'autorità bancaria europea che teme che questo sconto sul patrimonio possa incidere sulla solidità del sistema creditizio di Eurolandia. Il fronte dei favorevoli è però molto vasto ed è pronta a dare battaglia. Lo conferma l'iniziativa del vicepresidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che insieme a 11 alti rappresentanti del Parlamento europeo, praticamente tutti i gruppi politici, ha inviato una lettera al Commissario europeo per la stabilità finanziaria Jonathan Hill, in cui chiede il prolungamento della durata del fattore di supporto. Lo stesso giorno, il 24 febbraio, in Italia, le Commissioni finanze e attività produttive della Camera hanno approvato una risoluzione del PD, con primo firmatario l'onorevole Luigi Taranto, che impegna il Governo a sviluppare ogni iniziativa utile alla riconferma del meccanismo. Va nella stessa direzione la richiesta espressa da Confartigianato nel corso dell'audizione parlamentare del 22 febbraio, insieme a Rete Imprese Italia. Secondo l'Associazione Bancaria Italiana, in 19 mesi la misura ha corrisposto a una maggiore potenzialità di credito di 30 miliardi, con una riduzione dello spread di 20 punti base, un aiuto determinante in un contesto generale ancora segnato dalle difficoltà di accesso al credito per le PMI. Numeri che non possono lasciare indifferenti, soprattutto se si ricorda, come fa la lettera inviata a Illa, che la crescita economica e occupazionale della UE è affidata in massima parte alle piccole imprese, che rappresentano il 99,8% delle imprese europee, un motore di sviluppo che senza la benzina del credito è destinato a fermarsi. ANAP e ANCOS Confartigianato Persone, nell'ambito della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, condotta in collaborazione con le forze dell'ordine, hanno lanciato un questionario online sulla percezione della sicurezza da parte di tutti i cittadini. La rilevazione viene gestita dai gruppi regionali e territoriali ANAP e dai comitati provinciali ANCOS. Serve a raccogliere segnalazioni generali sul vissuto della popolazione, ma prevede anche domande specifiche riguardanti il fenomeno migratorio e i più recenti episodi di terrorismo internazionale. Le risposte al questionario, che è anonimo e non richiede dati personali e sensibili, serviranno ad arricchire il patrimonio di informazioni da diffondere in occasione delle prossime iniziative nazionali e territoriali di ANAP e ANCOS sui problemi della sicurezza e delle truffe. L'impegno del sistema Confartigianato contro le truffe ai danni di imprenditori e cittadini continua anche sul territorio. Nelle ultime settimane, infatti, le associazioni di Bolzano e di Vicenza hanno dato vita a iniziative contro le nuove truffe sul web. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Sono lontani i tempi in cui Totò vendeva la Fontana di Trevi al turista americano di turno, ma nel nostro paese la propensione alla truffa sembra andare sempre di moda. Secondo l'Istat, infatti, i reati in Italia sono in aumento, ma fra tutti sono le truffe e le frode informatiche a far registrare l'incremento maggiore, con un più 45% nell'ultimo triennio. Se l'ANAP Confartigianato continua la propria battaglia contro le truffe tradizionali, quelle telefoniche porta a porta, il sistema Confartigianato si sta muovendo per sensibilizzare imprenditori e cittadini anche sulle nuove truffe, quelle che si nascondono su internet. Dove negli ultimi tempi si sta diffondendo un nuovo virus, chiamato CryptoLocker, che blocca determinati file del proprio computer con una password sconosciuta. Questo virus, molto diciamo tecnologicamente avanzato, si diffonde attraverso ovviamente la posta telefonica come un allegato. Quindi di fatto ci arriva una mail con un falso gestore di energia, di compagnia telefonica, di studio di credito, di anche un fornitore o di un cliente, ma noi quindi abbassiamo il livello di attenzione perché ci fidiamo di questo mittente, con un allegato tipicamente in uno zip, nel momento in cui facciamo doppio clic, si installa CryptoLocker e inizia questo processo di criptatura che di fatto comincia appunto a mettere la password nei nostri documenti e se non paghiamo non possiamo più accedere, perché la password è difficilissima, è quasi impossibile da recuperare. Una truffa che si sta spargendo a macchia d'olio, tanto da spingere il gruppo ICT di Confartigianato Vicenza a diffondere tra i propri associati un decalogo con alcune buone regole per evitare di incappare in questo tranello informatico. Come Confartigianato Vicenza per aiutare i nostri soci a evitare di incappare in questo problema abbiamo mandato una specie di prontuario, un decalogo di buone regole dove appunto mettiamo in fila questi suggerimenti e quindi consigliamo agli utenti appunto di strutturare i backup, gli antiviterni, aggiornati i pc, gli antivirsi eccetera e eventualmente se non riuscissero a farli in autonomia possono chiaramente chiedere aiuto alla categoria degli informatici diciamo che si è costituita recentemente in Confartigianato che ben volentieri fornirà questi suggerimenti diciamo in azienda. Nelle ultime settimane anche Confartigianato Bolzano ha alzato il livello di attenzione su questo tipo di frode raccogliendo e denunciando la prima truffa via PEC, la posta elettronica certificata uno standard di comunicazione che sembrava sicuro ed affidabile ma che, ancora una volta, i malintenzionati sono riusciti ad infrangere. Nella mail certificata che abbiamo ricevuto, spiega Thomas Pardeller, direttore dell'associazione Alta Tesina l'utente viene invitato a cliccare sul link di una fantomatica bolletta dell'Enel. Il link però trasmette un virus che blocca determinati file presenti sul computer e su cui i truffatori chiedono un riscatto. Le truffe sono sempre dietro l'angolo, anche su internet ma basta un po' di attenzione e seguire i consigli giusti per evitare di ritrovarsi in spiacevoli situazioni. Vicenza, fino al 20 marzo, settimana dell'artigianato Confartigianato Vicenza organizza la consueta iniziativa con numerosi eventi su temi strategici quali l'internazionalizzazione delle aziende, l'innovazione digitale, il credito, scuola e cultura Dulcis in fundo, la 54esima premiazione dei maestri artigiani benemeriti Terni, 18 marzo, le smart cities per la digitalizzazione del paese Confartigianato Terni organizza un convegno sulle occasioni di rilancio dell'economia ombra Come di consueto è il momento per vedere insieme le rilevazioni dell'ufficio studi di Confartigianato 1.070.615 è il numero dei dipendenti delle imprese artigiane di produzione e di servizi È davvero tutto, l'appuntamento è per lunedì prossimo alla stessa ora sul nostro sito e sul nostro canale YouTube Buona settimana e buon lavoro! Grazie Grazie Grazie